La testimonianza di oggi ci è stata data da padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi. La notte del 20 settembre del 1919, il padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi non riusciva a chiudere occhio, non riusciva ad addormentarsi. La sua stanza era quasi di fronte a quella di padre Pio, che come sappiamo era la cella numero 5. Dalla cella di padre Pio vide provenire una grandissima e fortissima, così come abbagliante luce. Che arrivava dal corridoio fino nella sua stanza e vide che in quell'istante era padre Pio che passava per il corridoio. Stava arrivando dal coro, padre Pio era tutto illuminato, stava recitando delle preghiere e aveva tra le braccia Gesù Bambino. Era brillante, una luce avvaliante e meravigliosa lo avvolgeva. Passò davanti alla cella di padre Raffaele e non si accorse della presenza del confratello. Quello era il primo anniversario della stigmatizzazione. Quindi, che bella questa testimonianza con padre Pio e Gesù Bambino. Oggi è Natale e ne approfitto per augurare a tutti voi un santo e felice Natale. E come al solito, grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!